ehi ehi vedo che sei diventata più bella a quanto pare la parenti mi ha tirato la testa no comunque davvero o tu sei la più bella del mondo cosa quanto probabile io non viaggio abbastanza esagerato dai almeno ti ho fatta ridere si dai che stavi facendo leggevo il ladro di giorni mi sta piacendo tantissimo come libro non è affatto male davvero che canzone ascoltavi sentita faccio sentire però aspetta aspetta devo dirti una cosa importante però giurami di non ridere beh vai dimmi pure mi vergogno un po' addiesto però penso sia arrivato il momento adesso devo andare anche non vedo l'ora però adesso video lezione devo andare quindi ci sentiamo va bene ci sentiamo a presto ciao